Io sono Massimiliano Carletti, sono un socio della Galeno. Io sono un chirurgo generale. È stata per me una giornata molto intensa perché sono venuti fuori degli argomenti importanti per i giovani medici. Ho lavorato presso la divisione con il professor Giuliano Daddi. Mi ritengo, mi definisco, un chirurgo di pace che opera in territori dove non c'è più la pace, dove c'è la guerra. Per cui il compito del medico è molto importante, quello di garantire la sicurezza ed operare in regime di emergenza, urgenza. Devo in parte ringraziare anche la mia associazione, la Galeno, di cui sono socio, perché comunque mi ha sempre garantito una margine di sicurezza tra virgolette da lasciare ai miei familiari. Quindi ecco, ricordo, è un'associazione tra medici che tutela il socio. Quindi di fatto diventiamo dei soci e quindi questa garanzia mi fa operare e spostare anche in nazioni molto lontane, perché comunque la mia famiglia è in parte, anche essa al sicuro. è un'associazione tra medici che tutela la mia famiglia. Grazie. Grazie.